Il comitato direttiva 477 è nato nell'inizio del 2015 durante l'approvazione del decreto antiterrorismo che ha penalizzato gravemente i detentori di armi a fronte di nessun beneficio per la pubblica sicurezza. La denominazione del comitato è stata scelta in quanto all'epoca la direttiva europea 477, cosiddetta direttiva armi, era considerata come un punto di riferimento a cui la normativa nazionale poteva aspirare al fine di essere più omogenea e più paritaria rispetto agli altri Stati europei. Successivamente l'azione del comitato si è dovuta purtroppo anche portare avanti nella difesa della direttiva come originariamente approvata ed applicata nei vari Stati contro gli stravolgimenti che sono stati portati avanti da parte della Commissione europea e successivamente parzialmente approvati dal Parlamento europeo. Lo scopo iniziale del comitato era quello di porsi come contenitore rispetto alle associazioni preesistenti nell'ambito del settore armiero e avere un ruolo di coordinamento. Successivamente il comitato invece si è ricavato un ruolo diverso e è diventato la principale associazione che rappresenta i possessori legali di armi, i detentori di armi in Italia. Le modifiche proposte dal Consiglio europeo alla direttiva armi sono state purtroppo approvate. Questo non toglie che in Italia, anche se il discorso a livello europeo è concluso, si apra il fronte adesso per quello che riguarda il discorso del recepimento, cioè di come la direttiva verrà applicata in Italia, di come verrà modificata la normativa nazionale per consentire di applicare a livello nazionale le norme introdotte a livello europeo, pur mantenendo salvi e integri il più possibile i diritti dei possessori di armi italiani. Pur essendo di Costituzione relativamente recente, il comitato direttiva 477 fin da subito si è improntato alla ricerca di contatti a livello politico e istituzionale. Ovviamente il comitato è assolutamente apartitico in quanto non può prendere la posizione di uno o di un altro partito, ma allo stesso tempo il comitato può fare una selezione di quelli che sono i singoli personaggi che ci osteggiano o che ci favoriscono in qualsiasi modo e quindi il comitato può fornire delle indicazioni di voto, sia in positivo che in negativo, riferito ai singoli candidati, come fra poco alle elezioni politiche. Data la giovanissima età dell'Associazione, ovviamente le relazioni a livello amministrativo e istituzionale sono ancora a livello embrionale, ma nonostante questo possiamo dire di avere già un buon principio di rapporto tanto con il Ministero dell'Interno che con il Banco Nazionale di Prova e con gli altri organi che gravitano attorno, tra cui ovviamente le varie federazioni sportive che riguardano discipline con armi o comunque di tiro, così come con le altre associazioni di categoria che già da decenni rappresentano gli interessi del settore a livello istituzionale. Per quanto riguarda la collaborazione e i rapporti con le altre associazioni di categoria, il comitato fin da subito si è adoperato al fine di creare unità all'interno del settore, anche a causa del fatto che spesso è stata strumentalizzata l'estrema frammentazione del settore al fine di far passare provvedimenti ingiusti che colpivano sempre tal'una o tal'altra categoria in particolare. Siamo quindi estremamente soddisfatti del fatto che da qualche mese, anche grazie al contributo del comitato, si è riusciti a mettere in piedi un tavolo di coordinamento, un tavolo di lavoro comune fra tutte le varie associazioni, in particolare l'AMPA, Milconarmi, Lasso Armieri, l'Associazione dei Poligoni Privati, le federazioni del tirassegno nazionale che speriamo risolva presto i propri problemi, la federazione del tiro a volo, la federazione del tiro dinamico e anche una buona parte della rappresentanza delle associazioni venatorie. L'ultimo anno è stato molto importante nell'attività dell'associazione, anche in virtù del fatto che da febbraio abbiamo cominciato ad accogliere soci oblatori, mentre precedentemente tutte le attività erano svolte finanziate tramite i fondatori e i collaboratori dell'associazione stessa. Certo, anche se come molti nostri soci e sostenitori sanno, la gestione dei soci oblatori ha comportato qualche piccolo problema organizzativo, come è normale in un'associazione di giovani Costituzione come siamo noi. Le principali questioni che abbiamo affrontato nell'ultimo anno di attività sono ovviamente quelle relative all'approvazione e al recepimento della direttiva armi a livello nazionale, poi la questione molto delicata del regolamento dei poligoni privati e infine le tematiche legate alla legittima difesa sotto il profilo della tutela dei diritti dei cittadini che detengono legalmente armi. Per quanto riguarda la direttiva europea bisogna far notare che rispetto alle previsioni iniziali di fine 2015, il testo che si è riuscito a far passare è sì penalizzante, ma molto, molto, molto di meno rispetto a quello che era stato inizialmente proposto alla Commissione europea e si apre quindi a livello nazionale il periodo di recepimento di cui stiamo seguendo tutti gli sviluppi insieme alle altre associazioni di categoria. Per quello che riguarda la direttiva armi è importante far notare che questa, basandosi su concetti distorti della lotta al terrorismo, ha gravemente danneggiato l'intero settore, sia dal punto di vista dei cittadini, sia dal punto di vista dell'industria e dell'attività sportiva. Basti far notare che le principali azioni intraprese della Commissione europea riguardano ambiti totalmente opposti che vanno dalle repliche delle armi antiche fino alle più moderne armi di ex categoria B7. Ed è proprio per questo motivo che è fondamentale che il ricepimento della direttiva che inizierà a breve veda tutte le associazioni collaborare in maniera unita al fine di valorizzare quelle che sono le problematiche comune e difendere i diritti di tutti i soggetti coinvolti. E il Comitato si impegnerà a far sì che già dalla prossima edizione di It Show a Vicenza le varie associazioni di categoria possano manifestare pienamente questo nuovo spirito collaborativo con cui stiamo intraprendendo questa nuova impresa. Per quello che riguarda il discorso dei poligoni privati, il regolamento relativo sta avendo una genesi lunga e travagliata. Su questo fronte l'attività del Comitato è finalizzata affinché permanga la più ampia libertà di scelta per i cittadini di praticare l'attività sportiva o nelle strutture del tiro a segno nazionale o nei campi di tiro privati in cui si praticano tra l'altro anche le attività relative al tiro a volo e al tiro dinamico. Relativamente al discorso sulla legittima difesa, il Comitato già in passato aveva partecipato e sostenuto la raccolta di firme per la legge iniziativa popolare sulla inviolabilità del domicilio, che purtroppo abbiamo dovuto constatare è stata completamente arenata in ambito parlamentare e più recentemente si è attivata sotto il profilo dei contatti politici per quello che riguarda la riforma dell'istituto della legittima difesa attualmente giacente al Senato e che molto probabilmente purtroppo non vedrà la luce. Come tutti quanti sappiamo l'argomento legittima difesa sarà al centro della campagna elettorale della prima metà del 2018. Il Comitato non mancherà di far sapere ai soci e ai sostenitori quali sono, secondo le esperienze che abbiamo maturato nell'ultimo anno, i soggetti politici che realmente hanno delle intenzioni serie sull'argomento e quelli che invece lo utilizzeranno soltanto per fini elettorali. Su questo fronte il Comitato fin da prima dell'inizio dell'estate passata si è attivato coinvolgendo molteplici soggetti politici. A breve comunicheremo quali sono stati i riscontri relativi a tutte le parti. Oltre a questi argomenti che abbiamo visto insieme ve ne sono ovviamente degli altri, ad esempio quelli che riguardano i rapporti col Banco Nazionale di Prova, oppure i requisiti per il rilascio delle licenze, l'attività certificatoria, oppure singoli provvedimenti presi da autorità locale di pubblica sicurezza sui quali il Comitato si è attivato ma su cui ha scelto di mantenere un clima di tranquillità al fine di raggiungere più facilmente il miglior risultato possibile. Il periodo che si sta aprendo a livello nazionale con quello che riguarda l'attività di ricepimento della direttiva sarà molto delicato. Quello che è fondamentale è presentarsi organizzati e soprattutto acquisire un peso tramite la partecipazione, tanto dalla parte che riguarda gli operatori economici che ruotano attorno al comparto, tanto per quello che riguarda i cittadini che detengono e utilizzano le armi. D'altronde non si può pretendere che la difesa dei diritti dei cittadini venga portata avanti senza la partecipazione attiva dei cittadini stessi. Per questo motivo noi dobbiamo ringraziare tutti quanti i volontari e i collaboratori che quotidianamente si adoperano per le attività del Comitato, ma soprattutto i socioblatori senza il cui contributo sarebbe impossibile portare avanti queste attività. E ci auguriamo quindi che anche grazie a voi la nostra forza possa continuare a crescere.